Buonasera, io sono Adam Ansugoba, vengo dal Mali, ora che sto in Italia, precisamente in Benevento, in provincia di Napoli. La mia esperienza nel centro di Cuenza è che ci stanno molti business nel centro di Cuenza, i ragazzi stanno malissimo perché è un centro di Cuenza che non rispetta i nostri diritti, quindi così non possiamo andare avanti. Prendo esempio sul mio centro, è un centro di spra, in centro abbiamo molti problemi, come ora che inizia il tempo di freddo, non abbiamo l'iter per stare bene. Comunque quando fa freddo noi abbiamo dei problemi perché ogni tre mesi che deve dare soldi per comprare i vestiti non li rispettano. Quindi il problema dell'Italia è che noi non abbiamo i diritti, siamo come animali, le persone pensano che siamo criminali e che siamo qui solo per dormire o stare nella stazione o altrimenti. Però non è vero, non è così. Vogliamo integrare, vogliamo fare altre cose ma non danno l'opportunità, quello è il problema. Quindi se si può migliorare così va bene per noi perché vogliamo essere umani. Non è che la colore fa una differenza, siamo della stessa pianeta, non è che veniamo di un'altra pianeta. Quello che volevo dire, grazie a voi.